Non è una cosa strana che alcuni tipi di farmaci non si trovino in commercio per un certo periodo. In questo caso però la carenza riguarda un gran numero di prodotti. Nell'elenco aggiornato al 10 gennaio l'AIFA ne conta 3.200. Non si trovano soprattutto farmaci che sono molto comuni, in particolare quelli antinfiammatori, antipiretici e antibiotici. Le cause sono principalmente due. Una maggiore richiesta dei prodotti nel periodo post-Covid, probabilmente anche a causa di più virus contratti con la fine dell'uso delle mascherine e una minora offerta delle case farmaceutiche per una carenza di materiali per il confezionamento. Quello che c'è da dire alla gente è sostanzialmente di affidarsi al farmacista o al medico di base perché ci sono comunque delle alternative. Le più semplici sono gli equivalenti, se no ci sono alternative terapeutiche che si scelgono insieme al farmacista o insieme al medico. La terza opzione è quella di farsi preparare il medicinale nei casi in cui la farmacia abbia un laboratorio galenico. Chi lavora nel settore spiega che non esiste un'emergenza ma una condizione di maggiore attenzione. L'approvvigionamento delle farmacie avviene tutti i giorni a mezzo di società di distribuzione che a loro volta si riforniscono dalle case madri che producono. Quindi bisogna aspettare il reintegro delle scorte sostanzialmente. Non siamo in un'emergenza, certo qualcosa poi dovrà cambiare, anche perché le produzioni sono delocalizzate. La maggior parte dei principi attivi vengono fatti oggi in India, in Cina. Al momento la situazione sembra leggermente miglioramento con una richiesta minore. Per ora non ci sono stati tavoli istituzionali. Il pensiero condiviso è che ci si sia trovati di fronte a una situazione eccezionale. È un'eccezionalità perché proprio si è andati molto oltre le previsioni della domanda. Perché lei deve immaginare che i consumi di farmaci non si scostano in maniera così importante come in questi ultimi sei mesi. Questo è quello che è successo. Grazie a tutti.